Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video! Come potete vedere mi trovo nella mia vecchia cameretta nella quale ho realizzato una postazione un paio di anni fa provvisoria con una parete RGB e una TV incastonata se non sapete di che cosa sto parlando ho realizzato diversi video potete andare a vederli, eventualmente ve li lascio in descrizione o nelle annotazioni del video ho colto l'occasione anche per registrare dei video con i miei nipotini uno è già uscito ieri con Ricky dove siamo andati ad unboxare le nuove CPU Intel e poi sono andato a registrare altri due video, uno con la mia nipotina e uno con tutti e due che vedrete in futuro sul canale quindi iscrivetevi e attivate la campanella se non volete perdervi oggi appunto sono qui per due motivi il primo è che devo smontare completamente questa postazione perché i miei genitori hanno deciso di ristrutturare o risistemare alcune parti della casa e quindi mi hanno gentilmente chiesto di lanciare nell'iperspazio questa roba o comunque di spostarla in modo che possano sfruttare anche questa parte della camera che attualmente viene utilizzata da me solo quando vengo a trovarli per giocare, streammare o comunque poter continuare a lavorare purtroppo con tutte le varie limitazioni, restrizioni eccetera l'ultima volta che sono potuto tornare è stato sei mesi fa quindi mi sembra anche giusto non sarà l'unico argomento del video di oggi perché alle 14 della data odierna probabilmente avete visto la home intasata di video riguardanti questa piccolina qui ovvero la RX 6700 XT attualmente la scheda video è basata su RDNA 2 più economica proposta da AMD adesso il mio video non è uscito alle 14 principalmente per due motivi il primo è che mi stanno un po' sulle scatole gli embarghi a quell'orario e purtroppo sono sempre 14, 15, 16 e in questo caso purtroppo la scheda non mi ha nemmeno troppo entusiasmato quindi ho deciso di uscire con il mio orario classico la seconda motivazione è che effettivamente in questo periodo dove nessuno riesce a trovare o acquistare schede video quindi risulta anche un po' inutile io posso dirvi che questa scheda video va 15 volte una 2080 Ti o la vecchia generazione e però se non potete comprarla non ci potete fare più di tanto in ogni caso questa scheda ha delle buone performance va a confrontarsi direttamente con la RTX 3070 e i risultati variano in alcuni giochi va più forte la RX 6700 XT in altri va più forte la 3070 se attiviamo però il Ray Tracing vi ricordo che questa è la prima generazione di schede AMD con il supporto Ray Tracing in quel caso non c'è storia la 3070 va nettamente più forte anche senza DLSS attivo che effettivamente va sempre tenuto attivato o quasi soprattutto con il DLSS 2.0 è migliorato tantissimo e l'incremento di performance è fenomenale purtroppo AMD non ha ancora una tecnologia simile la stanno sviluppando ma non è ancora pronta appena arriverà vedremo effettivamente quanto gap potrà esserci tra le varie schede e quanto potranno guadagnare tutte le varie RX quindi non solo questa ma anche la 6800 6800 XT e 6900 XT come abbiamo visto negli ultimi mesi più o meno la storia è sempre quella hanno delle performance simili o migliori rispetto alla controparte senza Ray Tracing ma appena si va a attivare il Ray Tracing le performance proprio calano drasticamente parliamo ora di prezzi questa scheda dovrebbe essere venduta al prezzo di 479 dollari MSRP contro i 519 della 3070 se i prezzi fossero effettivamente quelli e riusciste a comprare le due schede al prezzo di listino potrebbe avere anche senso pensare una o l'altra ma effettivamente come ho detto poco fa non si trovano questa è stata da pochissimo annunciata e già si trovano a dei prezzi per quelle poche che si trovano assurdi mille qualcosa euro e assolutamente non vi posso consigliare di comprarla a mille euro non buttateli vi prego né per AMD né per Nvidia aspettate e cercate di comprarle a dei prezzi decenti voglio chiudere qui la parentesi 6700 XT purtroppo come vi ho già detto non mi ha entusiasmato è una buona scheda le temperature sono buone le performance in gioco sono ottime molto simile a una 3070 quindi le performance sono buone se solo si riuscissero a trovare basta per quanto riguarda le schede video perché dobbiamo smontare un po' di roba qui per quanto riguarda le caratteristiche del pc che stavo utilizzando in questa postazione abbiamo un i7 8700K la RAM la portavo avanti e indietro in base alle esigenze e anche la scheda video l'SSD era un SSD da 512 NVMe niente di assurdo il case è un S340 Elite che era stato smembrato e avevo anche rotto il vetro in un viaggio per quanto riguarda i monitor abbiamo un BenQ 24 pollici full HD TN 144Hz e un 27 pollici 4K della Acer TN G-Sync non mi ha mai fatto impazzire questo monitor però da tenere qui per la chat o come secondo monitor è sempre andato benissimo tastiere mouse Fanatic e il tappetino anche questo Fanatic un braccio per il doppio monitor e la scrivania è la classica Eckbacken che è un ripiano da cucina che ho utilizzato per tantissime postazioni da 1,86 m anche nella postazione di Riki o nella mia postazione avevo quelle da 246 cm e poi sotto ci sono due Alex di quelli senza cassetti che attualmente da quello che ho capito sono andati fuori produzione da Ikea infine qua dietro che non vi ho mai fatto vedere ed è anche un po' incasinato c'è un PC Mini TX smontato con un alimentatore e un router e lo utilizzo principalmente per scaricare o gestire file molto grandi all'interno del mio Google Drive visto che qui hanno la Gigabit e arriva a circa 900 MB l'unico con la connessione barbona sono io ormai rimasto il PC avevo già iniziato a scollegare un paio di cose a proposito guardate quanto sono belline queste luci che vi avevo già fatto vedere in uno degli ultimi video ma non vi ho detto dove acquistarle io le ho acquistate su Ebay e le ho pagate tipo 8-9 euro l'una una cretinata ma si trovano anche su Amazon eventualmente vi lascio il link in descrizione mi ero dimenticato la scheda madre di quel PC che è una B360F Strix di Asus una cosa molto carina di questo braccio per monitor che non ho visto spesso è il fatto che la placca venga via completamente a scorrimento e quindi è molto più facile agganciare i backplate sul monitor e poi andare ad agganciare il monitor in sé come potete vedere molto più veloce tac e viene via lo stesso vale per questo tolgo la vita di protezione di sicurezza faccio scorrere e viene via il monitor questa è veramente una figata secondo me qui non avevo messo strisce a led nella parte posteriore quindi è più facile toglierlo e metterlo visto che ci sono meno cavi e la scrivania è stata svuotata gli ho dato anche una pulita domani mattina prima di andare via toglierò anche il ripiano adesso non lo tolgo perché non so dove metterlo spero che questo video vi sia piaciuto fatemi sapere voi che cosa ne pensate un po' della situazione schede video mi dispiace davvero per tanti che vogliono magari farsi un nuovo computer in questo momento ma purtroppo non è un buon periodo iscrivetevi al canale non perdetevi i video con già dei ricchi e ci vediamo nel prossimo video ciao ciao